Sono Laura Antichi, vi presento Discovery VR App. Sono esperienze virtuali, lato consumer, ed è quando il viaggio diventa davvero virtuale. Un esempio di reazione che ho raccolto sono, c'è un vestito da gatto che fa il bucato, sono davanti a un taxista che mi guarda male, dovrei essere seduta sulla sedia perché la vedo sotto di me. Quelle tre si stanno truccando e mi fissano. Sono in canoa, mi vedo sotto l'acqua, mi piace stare nel catamarano, sono sull'adromedario. È un viaggio virtuale come turismo nelle culture, ha valore antropologico e sociale, serve per l'integrazione e l'accompagnamento in esperienze aumentate e immersive nelle scienze e nelle arti. è rivolto alla classe che si relaziona nella condivisione delle sperimentazioni. In didattica abbiamo come effetto l'immersione aumentata, genera un senso della vertigine emotiva perché lo sguardo si muove in tondo a 360 gradi continui, impossibili alla percezione ordinaria. è qualcosa di più della semplice sostituzione di un viaggio reale, impossibile. Si tratta quindi di un viaggio che permette di consultare, guardare ovunque e scoprire di che cosa hai bisogno, di eccitare le motivazioni e i sogni degli studenti, del desiderio di facilitare la comunicazione, collaborazione, pensiero critico, della passione disciplinare. Gli step sono aprire l'app Discovery VR sul tuo dispositivo, scegliere il tour, inserire lo smartphone nella card board, l'immersione nell'esplorazione, raccontare e condividere le emozioni con i compagni, descrivere che cosa si vede e riflettere e commentare. I tools indispensabili sono l'app Google card board e soprattutto come premessa è di aver scaricato l'app Google card board sul proprio dispositivo. Quindi per quanto riguarda l'app Google card board esiste l'app per Android, per IOS, con QFIA mobile, possiamo vedere con dei DreamApp o GRDR, con auricolare mobile, con Oculus Rift e HTC Vive. e quindi adesso passiamo di nuovo ad esplorare ancora qualche considerazione come dicevamo è un viaggio esplorativo attraverso le culture e le scienze ed è un'esperienza davvero straordinaria quando usarla? potremmo usarla nel momento operatorio di UNEAS simulando mondi ed esperienze nel contesto sociale e scientifico del loro manifestarsi sicuramente l'applicazione aiuta a sviluppare strategie intensive per le conoscenze incorporate nella visione al lato consumer sollecita non solo la visione ma anche l'immaginazione questa applicazione può essere una spinta alla ricerca successiva di informazioni e a seguire alcune piste di indagine nuove si tratta di un'esperienza video come vi dicevo dinamica a 360 gradi molto coinvolgente è uno story telling l'offerta dell'applicazione è molto vasta e come adesso andiamo a vedere una volta che abbiamo scaricato l'applicazione come vedete Discovery VR apriamo l'applicazione sul nostro smartphone o tablet e come potete notare qui ho tutta la serie delle proposte che l'applicazione mi fa di notevoli interesse e di notevole varietà quindi ve le faccio scorrere un po' per così avere l'idea di di che cosa possiamo guardare per per provare l'applicazione stessa guardiamo questo video su il il brit de shaman's fire quindi metto il mio smartphone lo inserisco in cardboard un attimo che lo inserisco in cardboard non l'avevo sganciato ma vabbè vado indietro ora prendo l'applicazione ecco dovrei essere rientrata nell'applicazione ok vabbè ho perso il mio precedente video vediamo se lo ritrovo eh sì perché quando in queste operazioni trasferimento sul sul pc vediamo invece un altro vabbè prendiamo il primo che viene l'experience the magic of zulu e idling ok possiamo quindi aprire a questa applicazione r come vedete possiamo poi possiamo navigare vedete guardate guardate sono entrata e vedete tutta la rappresentazione lo storytelling c'è stato un po' complicato entrare dallo smartphone attraverso il pc ma vabbè era per darvi un'idea di come possa funzionare questo tipo di applicazione che è molto molto immersiva possiamo prendere un'altra ad esempio sui washmail andiamo cosa possiamo vedere cosa ci dà l'applicazione quindi vedete la vita di questa popolazione vi dà anche una rappresentazione molto intrigante e sicuramente poedista attraverso il vostro cardboard vi citerà l'immaginazione ecco buongiorno di l'am di